Ups, tutti, i miei cari upsini e upsine, come state? Come, come, come state? Spero bene, dai. Oggi sono qui, solo per voi. Per cercare di rilassarvi, ovviamente, in questa serata autunnale che vivremo insieme. Quindi non vi resta che indossare un paio di cuffie e stendervi sul vostro letto, va bene? Che vi intratterrò un pochino, quindi direi subito di cominciare. Allora, come, essendo una serata autunnale, le temperature, diciamo, iniziano ad abbassarsi. E proprio per questo io voglio subito, voglio subito, subito, darti questa coperta. Quindi, tieni, ecco qui, perché è super, super, super morbidosa e secondo me starai veramente al calduccio. Quindi, come, primissima cosa, la coperta e come possiamo vivere questa serata autunnale tutti insieme. Allora, io trovo che settembre sia il mese in cui tutto ricomincia, no? E a ricominciare sono anche, appunto, tutte le cose che abbiamo da fare durante il giorno, durante le settimane, i mesi, possiamo dire. Quindi, secondo me, scriversi una to-do list giornaliera, settimanale anche, è molto utile. Ho preso questo pennarello, questo evidenziatore arancione, come lo sfondo, proprio per richiamare, appunto, il colore dell'autunno, secondo me. Perciò possiamo segnarci, appunto, vari punti, mi viene da dire, di cose. Di varie cose che dobbiamo fare durante questi giorni e questi mesi, perciò tutti insieme. Secondo me è anche una cosa molto rilassante da fare, perché magari tu ti stendi nel tuo letto e inizi un po' a pensare a quello che dovresti fare. Prendi un foglio, ma può essere anche banalmente le note del telefono e scrivi. Tutto quello che hai da fare, ok? Adesso lo appoggio qui e chiudo il pennarello. Un ottimo modo per iniziare questa serata, ecco. Ma oggi farò un bel po' di cose, infatti ho portato, come puoi vedere qui, tantissimi oggettini vari. E il prossimo vorrei che fosse questo legnetto qui, perché mi ricorda proprio tanto, tanto, tanto l'autunno. Che droga faccia? Un solo stupendo. Ok, dai. Abbiamo tante altre cose da fare per rilassarci, appunto, insieme. Come vedi, è proprio il fatto di stare a casa al calduccio, mentre magari fuori piove, trovo sia davvero, davvero bello. Allora, aiuto. Lo trovo super, super, super rilassante. Adesso ho altri oggettini, mi viene da dire, che mi ricordano proprio l'autunno. Allora, uno ve lo ho già mostrato. Il potporee, appunto, questi fiori secchi e profumati, di cui vi ho fatto sentire le due palline. Stupendi. Non voglio rilassarvi troppo, visto che l'abbiamo già sentito. Un suono, oltre a questo, che secondo me è proprio, proprio, proprio autunnale, è il suono di quando sei all'aperto e ci sono un sacco, 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 sacco di foglie secche. e quindi tu fai glop, 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 glop per schiacciarle tutte. Ma la cosa che secondo me è assoluta e mi ricorda di più l'autunno sono le candele. E' anche vero che io uso candele durante tutto l'anno, un po' di meno in estate ma comunque tutto l'anno. L'odore è stupendo e quindi mi piacerebbe accenderla. Eccola qui. La teniamo un pochino qua davanti. Poi ci sono certe fragranze, secondo me molto autunnali. Non acquista in particolare ma quelle tipo alla cannella, alla zucca. Cioè secondo me sono spaziali. Devo ritenerla qui. Spero la sentite. La sentiate. Che è appunto come se fosse un piccolo sottofondo. Adoro. Perché adesso che cosa farò? Adesso è arrivato il momento di prenderci un po' cura di noi stessi. E quindi ho portato varie cosette per fare come una piccola skin care. Prenderci un attimo in cura di noi. Allora prima di tutto ho qui uno struccante. Nel caso tu stia indossando del trucco. E quindi ho un dischetto e mi piacerebbe... Ok, è più liquido di quel che pensavo. Mi piacerebbe spalmartelo un po' così sul viso per rimuovere il trucco. Ecco. Da un lato. Dall'altro. Sotto il vento. Sulla fronte. Di qua. Di qua. Così. Ok. Uno step molto 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 luce. Per poi passare ad usare un po' di spuma per detergere il viso. Ok. L'ho messa su un altro dischetto. Aiuto. In modo che posso di nuovo spalmartela sul viso e poi massaggerò un po' con le mani. Quindi quindi lo spalmo soltanto questo dischetto appunto. E adesso posso un attimino spalmartela con le dita delle mani. Ecco. Così. 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 Perfetto. Poi non possono mancare dei peggio occhi, qui la situazione si fa un po' più complicata. Hai mai messo dei peggio occhi? Se vuoi ti do una mano. Praticamente ne preghi uno. In base al lato decidi come inserirlo. Perfetto. Adesso ti prendo l'altro che va dall'altro lato. Sono ben idratanti. Perfetto. Perfetto. Sono ben idratanti quindi. Questi sono molto molto utili. Fammi però chiudere il barattolo. La candela ha iniziato a scopitare in modo diverso. Ok. Ok. Quindi questi qua vieni in posa qualche minutino. li togliamo poi più tardi ecco. Per concludere volevo usare questo piccolo prodottino. Anzi in realtà dovrei usarne diciamo ancora due. Questa piccola lozione con cui userò un altro fischetto struccante. sempre sul tuo viso. E questo in realtà ti renderà un pochino la pelle come dire un pelino più sicca in realtà. appunto passaggio da fare prima della crema che adesso mettiamo. Ok. Adoro di qua il barattolino. ultimo passaggio una bella crema perfetta per rilassarci. vedi qua se ne preleva un po'. Plac. 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 Perfetto. E quindi questo è direi spegniamo la candela anche se è un suono stupendo. como questa Теперь, Vova. Plac. Plac. New finally Toiamo tutto il ruzo e l'accesso e diciamo, coco, coco, ora tocca a te iscriviti al canale se sei nuovo per andrei a far parte della UPS community. Lascia un bel like se il video ti è piaciuto e mi raccomando commenta, 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 commenta con quello che ti passa per la testa, va bene? Se il video ti è piaciuto ti chiedo allora di continuare, possiamo dire, a supportarmi guardando i miei video precedenti e quelli successivi che ci saranno, appunto perché io ora lascerò di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua in basso il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai, va bene? Quindi questo, vedai, io ti mando un grande grande bacio. È stato molto bello passare questa serata con te, ma adesso è arrivato il momento di dormire, quindi buonanotte, 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 buonanotte. Grazie. Grazie.